Ciao a tutti bambini, oggi insieme realizzeremo la ghirlanda dell'accoglienza. Il materiale che ci occorre è cartoncini colorati verde e rosso, forbici, nastrini, colla stick, colla a caldo e infine le vostre mani. Sul cartoncino verde disegnate e ritagliate tante forme delle vostre mani. Incollate tutte le forme delle mani per formare un cerchio. Dal cartoncino rosso ritagliate tanti cerchietti per decorare la ghirlanda. Col nastrino realizzate un fiocco e incollatelo sulla ghirlanda. Ecco pronta la nostra ghirlanda e adesso appendetela nella vostra porta. Grazie per la visione!